Benvenuti e bentrovati. Siamo qui per questo incontro con il quartiere Scossicci del Sole. Siete tanti, siete numerosi e questo non è male. Non è giusto se fosse stato un giorno. Lo so, però gli impegni sono sempre tanti per tutti e poi non sempre si riesce a conciliare tutto. Siamo qui per ascoltare, per sentire, per vedere quali sono le problematiche. Ringrazio i delegati del comitato di quartiere, sempre disponibili, con la quale abbiamo un rapporto sempre attivo. Ci sentiamo, ci confrontiamo, qualsiasi problematica ci viene sempre segnalata. Naturalmente si cerca di intervenire con immediatezza a tutte le problematiche che ci sono, anche se il quartiere è un quartiere importante, grande, con tantissimo verde. Quindi è un quartiere che sotto l'aspetto dell'impegno quotidiano da parte dei dipendenti del comune e anche, insomma, di chi deve fare un controllo e controlla è considerevole. Io lascio un attimo la parola, se vuoi presentare qualcosa, la Presidente del quartiere, Barbara Lucconi, così poi, insomma, diamo il via a quelli che sono... Sì, grazie. Allora, il comitato di quartiere è composto da me, Marco Giantomassi, che è il Vicepresidente e che è l'occhio attento, diciamo, della parte proprio di Scossicci, in quanto residente proprio a Scossicci. Poi c'è la signora Sabrina e Annalisa Palanca, che si occupano, una fa l'economa e l'altra si occupa delle attività di quartiere, le varie iniziative che il quartiere mette in atto durante l'anno. E niente, noi abbiamo accolto questa richiesta da parte vostra, quindi con l'amministrazione siamo qui ad ascoltare e anche se già ho avuto modo di chiamare la signora Anna Maria Morsucci e di parlare con lei, che mi ha illustrato, insomma, un po' la problematica. Però penso che se c'è qualcuno di voi che la vuole illustrare all'amministrazione, in modo che poi magari si riesca ad avere, diciamo, delle risposte. Vorrei solo fare una piccola presentazione. Allora, il comitato di quartiere funziona così. È un ente istituzionale interno al Comune, quindi tutti gli altri comitati liberi che si possono costituire non rappresentano il quartiere. Ci vogliono delle elezioni, durante le elezioni ci sono anche delle belle contestazioni, però alla fine viene eletto questo comitato. Il comitato si occupa di determinate cose, ma certamente non si sostituisce all'ente locale. L'ente locale è l'ente deputato a prendere decisioni per il territorio. Noi attenzioniamo tutte le varie problematiche che si possono presentare più o meno urgenti. proponiamo delle attività, come quelle natalizie, del carnevale, eccetera. Un tempo si facevano anche belle feste di quartiere, purtroppo il Covid ci ha un po' blindato in questo. Però il comitato si riunisce piuttosto regolarmente e soprattutto all'inizio dell'anno stila una serie di cose da fare, che ne so, segnaletica, strisce pedonali, rifacimento del manto stradale, tutto quello che possono essere le criticità del nostro quartiere e con una lettera protocollata o inviata via PEC, invia la richiesta al comune. Poi il comune anche quest'anno ci ha chiamato e ha detto questo lo riusciamo a fare in questi tempi, questo lo possiamo fare in questi tempi, questo sì perché i quartieri sono sette, quindi ovviamente il territorio è ampio. e noi alla fine dell'anno ci riuniamo di nuovo, anche durante l'anno, però per fare questo lavoro di controllo del territorio ci riuniamo di nuovo e vediamo quello che è stato evaso dal comune e quello che è da magari sollecitare. Questo è come funziona, abbiamo due faldoni di richieste in tutto l'arco della vita dei quartieri da quando sono stati costituiti ad oggi, forse il nostro quartiere è quello che più di tutti rompe le scatole al comune, però come ha detto il nostro sindaco, purtroppo è un quartiere molto ampio, diversificato, più o meno densamente popolato, del sole è densamente popolato, scossicci del sole ha tanto verde e tanto più territorio, quindi la densità cala, ma anche perché ci sono numerose case estive, mentre dalla parte del sole, cioè diciamo dal cavalcavia fino ai campi da tennis ovviamente lì c'è tutto un quartiere residenziale e la densità di popolazione cresce automaticamente, quindi diciamo che le problematiche delle due parti del quartiere sono spesso diverse, ma questo non è che perché sta da un'altra parte o perché è scarsamente popolato viene trascurato da parte nostra, io adesso vi lascio una parola, è quello che noi facciamo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, considerate che nessuno di noi percepisce niente per questo servizio che si fa alla cittadinanza e lo cerchiamo di fare nel miglior modo possibile e con la serietà dovuta, perché comunque noi abbiamo relazioni con l'ente locale, noi dipendiamo dall'ente locale, anche se effettivamente non è che siamo impiegati dell'ente locale, ecco questo è quanto vi ho detto, molte volte rendiamo pubbliche anche le nostre riunioni di comitato perché abbiamo piacere che intervengano i cittadini del paese, del nostro territorio affinché possano illustrarci magari delle cose che noi non riusciamo a vedere o di cui non siamo a conoscenza, ecco quindi la nostra pagina Facebook conta 6 mila followers, comunque è una delle pagine Facebook più vecchie e abbiamo tanti followers che si informano su quello che accade, ecco questo volevo dire, comunque detto questo lascio la parola a voi, sì? No, io volevo solo precisare in base a quello che ha detto la signora, se fosse possibile che il comitato di quartiere o una persona in via informale, prima dell'inizio dell'estate, io sono una persona che vengo qui da 40 anni perché ho un appartamento di proprietà, se si può interessare o possiamo vederci tra chi viene anche sporadicamente perché sicuramente i problemi nostri non sono quelli che hanno chi ci vive tutto l'anno e non vorremmo che questi problemi venissero fuori come in questo caso a fine stagione, cioè queste cose, la nostra riunione come vede qui, noi ci siamo costituiti come un gruppo proprio perché vogliamo far sentire la nostra voce soprattutto nel periodo estivo ma non alla fine, perché adesso la cosa è avvenuta alla fine, noi vogliamo che venga fuori all'inizio, ci sentiamo, ci parliamo un attimo, ci facciamo due chiacchiere per vedere quali sono le problematiche per vederle e di risolverle nell'ambito poi della stagione estiva, non ormai a Rabbo Morto, non ha senso. Un attimo solo, chiarisco solo una cosa signora, in occasione del mercatino di Scossicci c'è sempre un banchetto del comitato presenziato spesso dal signor Gian Tommassi, proprio per accogliere, per dare informazioni sul Cosmari, su quelle che sa e per raccogliere le istanze e dei cittadini. Ormai sono… quanti anni sono? Sono l'anno scorso. Allora, scusate, 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 scusate. Ascolti, se parliamo uno alla volta, che è la cosa più semplice e al microfono riusciamo a capirci, perché se no è difficile, qua giù arriva un eco importante e poi anche per chi sta ascoltando da casa, che sono parecchie persone che sono collegate. Quindi, come ha fatto la signora prima, chi vuole parlare si alza e va lì al vicino al microfono, così ascoltiamo bene. In merito alla spazzatura mi sembra strano che anche il comitato di quartiere non si è reso conto della sporcizia che c'è in giro. Si ostinano a mantenere la raccolta differenziata quando secondo me non è adatta per i due mesi d'estate. Quindi, che trovassero un'altra soluzione, un'altra cosa. Noi siamo venuti soprattutto anche per un'altra cosa, perché noi ogni anno ci troviamo, veniamo a Porto Recanati e non troviamo la spiaggia e quest'anno purtroppo ci sono state diverse mareggiate e anche durante il mese di luglio e di agosto nessuno si prende la responsabilità di manutenere oppure di sapere che fine deve fare questo posto. Allora, le rispondo subito se vuole. Non ha finito? Sì. Ok, quindi un punto alla volta. Per quanto riguarda la differenziata non è che ci sono zone dove viene fatta o zone dove non viene fatta. La differenziata è naturalmente una scelta che è stata fatta dal Comune ormai da non so quanti anni, 13? 13 anni è in... No, allora... Allora, forse voleva dire che sono stati tolti i cassonetti. Oh, adesso è chiaro. Allora, il fatto di togliere i cassonetti è una scelta, è una scelta ben precisa e le spiego perché. Perché in quel quartiere purtroppo che, come diceva il Presidente Barbara Lucconi, è molto abitato e molte persone che vengono vengono come seconda casa per... Esatto. Quello che si trovava la domenica mattina, la domenica mattina o il lunedì mattina a livello di immondizia, quindi di sacchetti eccetera, non differenziati, cosa che invece Porto dei Granati fa come città e come regola ormai da 13 anni, era una cosa non più sostenibile e soprattutto per i costi. Allora bisognava trovare una soluzione. La soluzione è quella della differenziata e della raccolta porta a porta per tutta Porto dei Granati, compreso quel quartiere. Cioè non ci sono né figli né figli astri. Cosa abbiamo fatto? Naturalmente abbiamo tolto i cassonetti, ma contemporaneamente abbiamo aperto un'isola ecologica presidiata. è presidiata. No, no, non è quest'anno, è dall'anno scorso. È dall'anno scorso, tant'è vero che il cartello ha gli stessi orari dello scorso anno, è lo stesso cartello dello scorso anno e se posso garantire che sono state fatte tantissime multe per i sacchetti non lasciati in giro nei giorni, non consone alla raccolta. E questa è una scelta civile, non è una scelta per fare un dispetto a qualcuno o a qualcun altro, perché tutti paghiamo le tasse, tutti paghiamo l'Imu, tutti paghiamo l'Atari. Quindi questa è una scelta di senso civico, cioè chi viene a Porto Recanati o come residente o come ospite è giusto che come a casa sua, perché sono sicuro che anche a casa sua avrà una raccolta o porta a porta o differenziata, lo faccia anche a Porto Recanati e in un quartiere residenziale. Cosa ancora più importante? Questo è il primo punto. Secondo punto, signora, le mareggiate non ci sono state da metà di giugno fino all'ultima che è stata l'altra settimana, quella grossa che c'è stata l'ultima volta. Però penso che tutti abbiano capito cosa è successo tra maggio, giugno e luglio a livello meteorologico in tutta Italia, soprattutto nell'Adriatico. Forse ci dimentichiamo che ci sono 36 mila sfollati, ci sono stati in Emilia Romagna, finisco. Il problema lì è un altro, c'è l'erosione dovuta a tante cose, dovuta a tanti fattori, porti aperti e ristrutturati in una certa maniera, lato sud altri porti con bracci fuori che hanno influito in quello che è poi quella corrente lì. Noi abbiamo firmato una convenzione per una scogliera, sono già la prima convenzione, 9 milioni di euro, cosa che dovrebbe partire. Certo, nessuno ha la bacchetta magica per farla entro domani, ci vogliono i tempi, però questa è una delibera della Regione Marche di quest'anno e noi abbiamo già convenzionato e parlato con il provviditorato che metterà in opera tutta la scogliera. Quindi è un tema che va avanti, quello dell'erosione lì da decenni, forse anche di più e quindi noi appena arrivati qui, che non sono neanche due anni, la prima cosa che abbiamo fatto, ad ottobre siamo arrivati, del 2021, la prima cosa che abbiamo fatto a novembre abbiamo portato un progetto sulle scogliere alla Regione Marche. Questo progetto è stato approvato e adesso per stralci verrà realizzato. Quello che non riesco a volte a comprendere è che ad esempio in Civita Nova Marche mangiano 5 cm di spiaggia, l'anno successivo praticamente le stesse scogliere le riposizionano, le rimettono a posto, cioè ci hanno una maggior cura. Invece qui sono le scogliere che sono state messe nel 79 forse e sono rimaste sempre così. Guardi, forse lei non si accorga. Io non conosco comunque come funziona, però io quello che vedo è che Pedaso fa in un modo, Civita Nova fa in un altro modo. Qui è stato sempre così. Allora, qui non so chi c'era prima. Quest'anno forse lei è sfuggita, ma sono stati fatti due bracci nuovi, due pennelli nuovi. È una scelta quella del demanio, non è una scelta comunale. Quello sono lavori che sono stati appaltati negli anni e negli anni vengono realizzati. Quindi quest'anno ci sono stati quei due pennelli lì. Anche noi ci siamo sorpresi, visto che è approvata una scogliera che dovrà essere realizzata, perché buttare a mare due pennelli... Esatto. Però, signora, questo non è una cosa sulla quale il Comune può intervenire. Questo fa parte di un ente superiore a quello che è il Comune. Il Comune può, come dice lei, attenzionare, mettere in campo la problematica, scrivere e cercare di ottenere finanziamenti per questo. Quindi questo è quello che abbiamo ottenuto. Esatto. Adesso la competenza è della Regione e di chi realizzerà l'opera. Però adesso, ritornando alla storia della raccolta porta a porta, cioè lei ha detto che ha fatto un'isola ecologica. Questa istituzione ecologica è aperta dalle 9 alle 11. Allora, io vado via di domenica sera. Cioè, la mattina dopo? Cioè, il fine settimana come faccio? Dove la porto? Allora, è aperta dalle 8 alle 11. Sono 4 giorni alla settimana. I rifiuti del pranzo, i rifiuti della cena. Dove li porto? Allora, io come tanti abito a 50 km. A giugno, luglio e agosto faccio solo fine settimana. Io tutti i fine settimana prendo la monnezza e me la porto agli esi. Ecco, quindi penso che a questo punto tutti quanti ce la portiamo a casa. Perché io parto alle 7, alle 19, da portare a canale e me la porto a casa. Allora, per me questo non è un servizio, ma è un disservizio. Poi, poi è messo il cassonetto. Io non ho mai segnato, solo per l'umino, solo per l'umino. Stai schiacciato. A posto così. A posto. Il cassonetto poi è anche distante, perché così si è grande. Per cui le persone anziane a piedi, che non guidano, dove se la portano? Spalle? Questa è una cosa. Seconda cosa, parlo per me stessa e tante persone come me, sono senza patente e per cui non possono guidare. Scossicci non c'è più un negozio, non c'è più niente, non c'è più un servizio. La navetta gli altri anni la mettevate a metà giugno, la navetta, per venire qua a Portorecanati a fare spesa. Mettevate la navetta a metà giugno, fino alle 8, 9, 10 settembre, andava bene, perché io ci sono stata e l'ho usufruita. E va benissimo. Quest'anno, da luglio a settembre, due mesi scarsi, con degli orari, se vuoi prenderlo alle 6, fino alle 9 non torna su. Cioè, una persona dovete anche, cioè, date un servizio, ma con qualche elasticità di orari, secondo me. E queste sono due cose che devo dire. I sacchetti dei rifiuti, della raccolta indifferenziata, ci sono, ma devi venire sì qua giù a prendere, devi venire a piedi. Cioè, ci sono tanti disservizi, una volta c'era, la Cosmarino, c'era un chioschetto, andavi, io non dico tutti i giorni, una volta alla settimana, ogni 15 giorni. Si è dismesso da almeno 7 anni quel chioschetto lì. Noi l'anno scorso, credo anche questo anno, al Sì con te e anche in farmacia. La farmacia con il Covid non le ha più dati e il Sì con te li dà. Oh, l'anno scorso come no? L'anno scorso non c'erano. Non c'erano. Signora, sì, si sbaglia, guardi, ci avevamo un addetto. Non c'erano, siamo andati. Abbia pazienza, non c'erano. Poi un altro caso, la farmacia, adesso è aperta dal mattino alle 10, mi pare, alle 2 del pomeriggio. Poi è chiusa, pomeriggio non c'è mai un giorno, mercoledì tutto il giorno chiuso. Una volta, due, cioè perché? Non c'è più niente a Scossicci. Cioè le case acquistate, valgono più niente, non c'è spiaggia, non c'è servizio, non c'è più niente. Cioè io abito a Torino, ho comprato qua, è un'altra vita. Adesso non c'è proprio, sta morendo Scossicci. Ci sono i marciapiedi che se passeggia la sera non ci vede, ci sono le radici così. Sì, e ti inciampi, ti spacchi. Il comitato non so se viaggia a piedi o viaggia in macchina, ma noi viaggiamo a piedi. Ma io le dico perché adesso mi vengono in mente e poi me le dimentico. Per cui tra tutti sentite, perché veramente tutti si parla, però quante ore nessuno parla. Scusate. L'ombra. Se no non c'è niente. La ragazza è scoperta. Ma se parla tutti quanti. Scusate. Io volevo rispondere per quanto riguarda il discorso della raccolta porta a porta. No, che magari fino alla domenica mattina è aperta l'isola Ecologica, giusto? Sì. E il signor invece ha i cassonetti, l'umido o quanta... Il cassonetto lo stradale c'è sempre, non è che è andato via. C'è sempre, il vetro c'è. Il vetro c'è, il pannolino c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. L'indifferenziata c'è il lunedì mattina. C'è il porta a porta, signor. Io signora, adesso le faccio un esempio, ma ascolti. Io vengo da Scoleto, sono arrivato questa mattina e siccome avevo la plastica, perché ho preso un appartamento e ho fatto la plastica, ho preso la plastica, l'ho chiusa, me l'ho messa in macchina. Come fa il signore che va a Iesi? Ascolti, ascolti, scusi. C'entra un senso civico, esiste pure un senso civico. Guardi. C'entra, ma scusi, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra, scusi? Guardi, no, vogliamo dire. C'entra, scusi, le sto facendo un esempio. Le sto facendo un esempio. Allora, scusate un attimo, cerchiamo un attimo di non fare confusione, cerchiamo di parlare una volta. Allora, io voglio fare un intervento. Ci siamo visti con l'assessore Riccetti il 12, perciò martedì scorso, con la Cosmari. Però, però, ascolti, però non è che ci può accusare di non avere senso civico. Io per due mesi pago l'immondizia a Porto Lecanati e la smoltisco a Morrovalle perché me la porta a casa. Perché, come diceva lei, se io vado via la domenica sera e l'isola ecologica è chiusa, o ci organizziamo bene con l'isola ecologica, che poi anche lì è tutto un dire, perché fai un'isola ecologica, no? Nel periodo di primavera, quando uno viene qua a costruire il verde, vengo qua, mi faccio i miei lavoretti del verde, arrivo a mezzogiorno, con tutti questi sacchi di verde, vado là tutto chiuso, tutto in vacanza. Cioè, non c'è senso. È una questione di organizzazione, cioè, non è una questione... Mi scusi, lei abita a Morrovalle? Sì. Ok. A Morrovalle, quando fai sfalcio, come funziona? A Morrovalle abbiamo l'isola ecologica con tutti gli orari determinati, mattina o pomeriggio, a seconda dei giorni. Ma qui il discorso è diverso, io abito lì, quindi io ho la raccolta porta a porta, quello che fate voi qui. Qui è un discorso che va mirato all'appartamento turistico, perché Scossicci è una zona turistica. È un quartiere. È un quartiere, però c'ha... Ho capito. Ma mi... Allora... Quando si parla di migliaia di persone, non si parla più di un singolo che cerca... Allora... 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 Ma noi paghiamo per tutto l'anno, eh? Allora... Allora lei ha la seconda casa del paese, va bene? Non c'era il regno, è un discorso turistico. Quindi... Allora... 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 Guardi, guardi, signora, se la riunione è costruttiva ha un senso. Ascolti... Se è costruttiva ha un senso. Esatto. Manteniamole in toni costruttivi. Un attimo. No, no, ma no. Non è molto educato, non è molto educato, signore. Scusate. Avete iniziato? Signora, signora, lei con la camicia nera, scusi. Un attimo. Se deve parlare, se alzi, c'è il microfono. Che è? Ciao. No, io volevo rispondere per quanto riguarda i sfalci. Cioè, non è che a Morovalle e a Porto Recanale c'è sempre il Cosme. Anche qui c'è un'isola ecologica aperta fino alle 6 per buttare sfalci. Alla sera. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Anche il pomeriggio. Ma non è che perché lei viene qua, fa il giardino e il sabato pomeriggio ha il diritto di buttare i sfalci in giro dove gli capita. I sfalci lei se li porta a casa. Ma non è per fare lì. Ma c'è l'isola, ma perché, signora? Io faccio il sabato, c'è, tra i mesi dell'agosto che è l'agosto, ma quando lo faccio a maggio, a giugno o la domenica... C'è un'eccezione. Ora, forse non è informato. No, un attimo, scusi, anche il discorso della domenica, se l'isola è aperta fino alle 11, no? Dalle 11 fino alle 7, quante mondizia fa una persona? Ma se la deve portare a casa comunque, signora. Ma perché se lunedì mattina c'è l'indifferenziato, la plastica, la carta fino alle 11 la può portare all'isola, l'umido, i pannolini e il vetro lo può buttare nei cassonetti stradali? Ma i cassonetti sono piccoli per il periodo certo. Allora, signora, allora, signora, guardi, lei dove abita, scusi, giusto per... A Morovalle. A Morovalle. A Morovalle perché? Cassonetti come sono, signora? È il Cosmari, è quelli, o è 240 o è 1100. Io sono stata a Bieste, sono stata a Castiglione della Vescaglia, quindi due comuni esterni, cioè lì non vedete... Questa è una cosa un po' diversa. La gestione della pulizia è tutta Cosmari, questo è un punto che va messo in... Quindi, questo è quello che noi facciamo tutti i giorni, sia per lo spazzamento, cioè attenzioniamo la Cosmari e diciamo lì non si è passato, oppure lì passa perché abbiamo trovato una cameretta, oppure lì passa perché c'è un armadio a sei ante buttato su... Aspetta, perché la realtà è questa, signora. Chi viene, ascolti, faccia parlare pure a me, chi viene qui molte volte che ha una casa come seconda casa di vacanze, eccetera, tante volte quando cambia i mobili, tante volte quando cambia il divano, la televisione, io personalmente ho preso il nome di uno perché l'aveva lasciato sulla scatola e ho mandato i vigili a fare la multa. Non è un caso, signora, se vuole che vada a prendere le foto, gliele vada a prendere tutte, frigoriferi, forni microonde, tutto questo troviamo. E' come funziona anche lo sfalcio, è la stessa cosa, se uno ha bisogno che venga a ritirare qualcosa di ingombrante, come anche lo sfalcio, c'è sul libretto che abbiamo distribuito tutti i mercatini che sono stati fatti a Scossicci, c'è un numero telefonico che va contattato e è della Cosmari, viene, con 5 euro si porta via tutto quello che è. Signora, il signore qui lavora alla Cosmari, è difficile adesso sostenere pure questo. Allora, scusate, ma non riesco a parlare. Allora, scusate, scusate, però, allora, se parliamo dell'inciviltà delle persone... Vabbè, allora, scusate. La decisione di togliere i cassonetti è stata presa... Signora, ha parlato il sindaco, ha parlato da sopra, ha parlato la signora, io parlavo da sopra... Comunque, la decisione di togliere i cassonetti è stata presa quando dentro su RSU, multimateriale e cartone, abbiamo portato via calcinacci di un bagno intero, eternit, docce, pompa di calore, e poi cos'è che era, e non mi ricordo, da lì è una vasca da bagno. Da lì abbiamo deciso, perché questo, no, un paese turistico non si può permettere di trovare. L'inciviltà, quindi l'inciviltà dei pochi la devono pagare i tanti, è un discorso che non regge questo. Allora, vorrei portare un attimo l'attenzione sulla spazzatura ordinaria. Allora, se la gente è incivile e lascia la pompa di calore, o il frigorifero, o la televisione, quello è un discorso di inciviltà, non è un discorso di gente che ha bisogno di portare la sua spazzatura di tutti i giorni. Allora, se io la domenica sera vado via e il lunedì mattina ho solo la possibilità di lasciare il mio sacchetto della raccolta indifferenziata del, come si chiama, giallo, quello della, eh, dove la metto la plastica? Io abito a Milano e vengo col treno, non me la posso mettere in macchina, la devo lasciare fuori con il mio chip e prendo la multa, perché il lunedì mattina non c'è la plastica, ho tanta plastica, non c'è la carta, c'è solo il giallo. Allora, io che sono a piedi, come faccio ad andare a portare la cosa all'admissima ecologica la domenica mattina, che la sera ho già raccolto un sacco di roba? Come devo fare? Ditemi voi. Allora, io facciamo delle proposte, non potete raccogliere lunedì mattina tutte e quattro le cose che ci sono da raccogliere, non mi ascolta nessuno, mi ascolta nessuno? Scusa, faccio una proposta, nel periodo estivo, non è possibile raccogliere il lunedì mattina plastica, carta, indifferenziato, l'umido c'è già, solo il lunedì mattina, il lunedì mattina la plastica è solo per quei due mesi lì, poi durante l'anno le persone non ne hanno bisogno, perché ci abitano in quelle case, non c'è niente, cioè se questi giorni lasciamo stare i cassonetti, questa è una proposta, non è che dobbiamo litigare e arrabbiarci e basta, non ci stiamo solo arrabbiando, stiamo solo dicendo, proponiamo che almeno il lunedì mattina ci sia la possibilità di raccogliere tutte e quattro le cose che dovete raccogliere, non solo l'indifferenziato che sono dei sacchetti piccolini ormai, non c'è più niente del giallo, cosa ci mettete voi del giallo? Io non ci metto niente, la plastica invece abbiamo i sacchi alti così, questa è una proposta poi, poi torniamo, oppure in alternativa l'isola ecologica fino alla sera, le 8 di sera, uno va lì, va via, lascia, va a casa, Se lei considera, signora, quello che ha detto prima il consigliere Sampolesi, quello che trovavamo accanto ai cassonetti quando c'erano, immagini lei, se noi lasciassimo l'isola ecologica aperta, che cosa potremmo trovare dentro? Scusate, vi ricordate dove sta l'hotel Giannino davanti al distributore? Lì c'erano dei cassonetti, vi ricordavate? Tutti i giorni era una discarica a cielo aperto, veniva la Cosmeri, portava via, dopo due ore venivano i mezzi, chi fa l'edilizia, a scaricare le cose, siamo stati costretti a levare, perché era una cosa indecente, noi abbiamo avuto con l'assessore Ricetti il 12 un incontro con il Cosmeri, c'è stato un miglioramento della vostra zona, importantissimo, anche in termini di risparmio economico, poi è da parte di tutti avere l'attenzione, quello che diceva la signora, la domenica mattina fino alle 11 è aperta l'isola ecologica, quella piccola, e uno può buttare via tutto, il giallo, la plastica e tutto, signora, dalle 11 della mattina fino alle 8 di sera, quanta plastica sarà una bottiglia, la lascerà lì di plastica e la porterà via la settimana dopo quando ritorna. A quando andate via, a quando? Alla fine della stagione, facciamo conto oggi, io vi volavo, io vi volavo per voi. Allora, scusate, io riesco ad organizzare tutto, adesso se uno può prendere la sera, o la domenica, 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 Scusate un attimo, scusate, qual è la domanda? Perché io ci abito o non ci abito, qual è la domanda? Qual è la differenza? Allora, la domenica, ho sentito, ho capito, ho capito, ragazzi, ho sentito, ho capito, non è che sono scema, non ci vuole tanto a capire quello che state dicendo. Voi dite che lunedì mattina partite, la domenica sera avete... Perché partite domenica sera? Allora, io ho visto, lì, in via Giovanni Caboto, dove vivo io, no? Dei signori che hanno le guillette bianche, così che sanno che partono, e appendono la plastica per il mercoledì e rimane anche lì, appesa. Rimane appesa, no? Però adesso voglio dire, se uno parte, aspettate, se uno parte davanti al... Davanti... Aspetta, ho detto. Davanti all'O18 ci stanno dei cassonetti più grandi. Quando uno parte, volendo, lo faccio anch'io, che vivo lì, magari sono più plastica, prendola, prendola, mi fate parlare o no? Non parlo dell'O18, parlo davanti all'O18, se voi andate dietro dove c'è il cambeggio, o comunque tutta questa grande plastica, come diceva il signore Serena, tutta questa grande plastica, dalla domenica che voi partite, alla fine quanta plastica, il sabato c'è la plastica. Io ho osservato tutto, io ho fatto anche delle foto, tantissime, ho visto tutto, io so, vivo lì, solo che dico che è in civiltà, perché molti mischiano tutto, io l'ho visto con i miei occhi, stesso quelli che stanno sotto di me, io ho fatto delle foto, mettono schetti viola, mettono tutto e di più, prendono e buttano là, l'ho visto con i miei occhi. Ok, se volessi potrei anche denunciare, però adesso, voglio dire, la plastica, anche io, ne faccio pochissimo, vabbè perché non sono molto... Però, volevo dire, se domenica sera, se domenica sera, voi partite domenico, cioè lunedì, il problema è che un po' di plastica, che ne so, avete fatto 4-5 bottiglie, quello, quell'altro... Signora, ma questo l'ho visto con i miei occhi, lo so, ho capito, ho capito, ma non risolvono neanche loro, come risolvono loro? Non è che lunedì possono passare con plastica... Marina, scusa, spegni un attimo, Calessio voleva rispondere. Devo premere, buonasera a tutti e grazie comunque che ci ascoltate, sarebbe stato meglio comunque che la riunione fosse stata fatta un pochettino prima, perché adesso siamo in pochi. Allora, io parlo... Ok, va bene, va bene, ne rifaremo anche delle altre eventualmente... Attualmente... Ah, va bene, va bene. Allora, va bene, ok. Chiarito questo, il punto è, cerchiamo di fare delle proposte costruttive, perché durante l'inverno anche i residenti, pochi, ma ce ne sono delle famiglie, io credo che ci siano 150 famiglie a Scossicci, e comunque la parte dell'inciviltà c'è, non parliamo di noi, perché qui ci stiamo preoccupando come metterla bene questi rifiuti, però la videosorveglianza credo che risolverebbe molto, no niente, qualcosa sì. Allora, quando si va a buttare nel giallo i pannolini, si trova di tutto. Questo purtroppo è stato perché la decisione ormai non si torna indietro, no, perché l'amministrazione non vuole più tornare indietro sul fatto di aumentare a luglio e agosto i cassonetti stradali. Anche lì cambierebbe poco, perché tanto c'è da combattere sulla inciviltà della gente. La mia proposta però è, siccome noi siamo educati, ma gli altri la gran parte no, perché quando arrivano, si era fatta la proposta l'anno scorso, ci arriva la lettera per pagare i rifiuti, e li paghiamo tutto l'anno, quelli che sono non residenti conferiscono solo per un paio di mesi i rifiuti. Comunque li paghiamo tutto l'anno. Perché quando ci arriva l'imposta Tari insieme non arriva l'eco-calendario? Perché molti sono disinformati. Se noi lo facciamo gutta scavat lapidem, alla fine ce la facciamo. Questo. Poi, io sono arrivata tardi, mi scuso, ma nel mio Paese avevo anche un'altra riunione alle 17. E non so se sono stati presi in esame altri problemi. Se finora si è parlato solo di rifiuti, mi taccio, perché questo volevo dire sui rifiuti. Se c'è, se sei discusso di altre cose, avrei anche altre proposte. O se ne dobbiamo ancora parlare, prendo la parola poi. Grazie. Allora, è una parte paesaggisticamente stupenda, Scossicci. Cerchiamo di renderla migliore nel senso non solo, non pensiamo solo ai turisti, perché non voglio dire ai disagi di noi non residenti ma proprietari. Non pensiamo solo questo. Pensiamo che invece il Comune, Porto Recanati, si potrebbe reggere sull'aspetto del turismo, ma andrebbe valorizzato. A tutt'oggi Scossicci è un ammasso di cemento con servizi zero, zero. E ce li abbiamo soltanto al di qua del Cavalcavia. Invece ci stanno 150 famiglie tutto l'anno al di là del Cavalcavia. Molti pensano addirittura, io parlo con qualcuno dei miei conoscenti, ma lì non è Marcelli? Perché addirittura è talmente staccata la parte, però c'è il rischio che anche l'amministrazione comunale la consideri ormai persa. Qualcuno voleva andare con Loreto. Allora, però, che cosa voglio dire? Il rispetto, la civiltà di una città si misura se ha attenzione verso i deboli. E i deboli sono i minori e gli invalidi. Allora io, mentre c'erano i lavori in questi giorni per la fibra, ottima cosa, ho dato un input al comitato e lo do adesso all'amministrazione comunale. Via Cristoforo Colombo, da quando la prendiamo dal Cavalcavia verso il jet, sulla destra, dove è stato fatto da poco la fibra, c'è un marciapiede che è così. Sì, non è a norma. Lì un invalido non passa, una mamma col bambino in carrozzina non passa. E siccome in estate ci sono le auto parcheggiate, dove è costretto a passare il pedone? In mezzo alla strada. Poi, gli attraversamenti pedonali, quello che costa poco, va fatto. Una verniciatura allo zebrato, santa la pupa. Poi, sulla provinciale, ci sarebbe una cosa che forse c'è da parlare con la provincia, è chiaro. Però, se voi tenete presente, per spiegarmi, non so se riesco a essere chiara, quando vengo di notte verso Porto Recanati non ci vedo bene, passo per l'interna, passo per Chiarino e a Sant'Egidio ci sono degli attraversamenti pedonali illuminati a giorno. Praticamente è un palo verticale che in alto ha un bel quadrato di 60x60, credo, che è illuminato e fa luce verso lo zebrato. Non so quanto costa, però questo risparmia vite umane. Ecco, se non si possono fare i dossi, perché si dice si possono fare e non si possono fare, però sugli attraversamenti pedonali, assolutamente, credo che questo non sia. La sicurezza delle persone, al di là di quello che è la stagione estiva, che però vi deve interessare. Adesso non si può fare tutto immediatamente, però cominciamo a mettere anche i cestini per chi passeggia, cominciamo a mettere qualche servizio, certo, c'è da chiedere a qualche privato che sia più interessato a mettere anche un supermercato oltre quell'unico, che pare sia stato chiuso. I marciapiedi attuali, anche quelli a norma, non ci si cammina bene, nemmeno uno valido, o inciampa anche uno valido. Queste credo che siano delle soluzioni immediate e poco costose. La segnaletica. Poi, vediamo di un'altra cosa. La rotonda, la rotonda che sta tra Cristoforo Colombo a Munzen, a Munzen le indicazioni di via, alcune non ci stanno per niente, a Munzen è... Però, quella rotonda lì è pericolosa, ma è anche molto pericoloso il doppio senso di marcia verso la sinistra da quella rotonda, via uso di mare e via pigafetta. Qualcuno mi vuole spiegare il senso logico di due sensi unici paralleli? Oppure uso di mare, deve essere ben segnalato lo stop, altrimenti lì le auto cozzano abbastanza spesso. Ecco, tutte cose che potrebbero costare poco, una verniciatura non è che costa tanto, però c'è da farlo spesso. I posti invalidi, riservati agli invalidi, davanti alla farmacia, davanti alla chiesa, davanti al supermercato, che ora non c'è più, ma quando ci sarà, speriamo. Cioè, i posti sensibili, le persone dove si vanno a mettere. Quel parcheggio tutto interrato, che sta in condominio, non so come si è messo con Loreto, se è di Loreto e Porto Recanati, ne ha l'uso. I turisti vanno tutti lì d'estate, dove un tempo gli anziani giocavano anche a bocce. Allora, lì è tutta terra, però almeno ci vogliamo mettere un cartello verticale vicino all'unico passaggio che c'è per gli invalidi, un posto riservato invalidi? E poi, uno scivolino, che io mi ricordo, la buonanima di Marone, quando glielo segnalai, due secchi di cemento ce li mise che fecero da scivolo. Adesso magari c'è da rimettercelo il cemento, costa poco. C'è da farci caso, c'è da passarci spesso in queste nostre zone, capito? Perché è tutto accentrato in questo bel centro, bellissimo, sempre vivo anche d'inverno, però purtroppo, e per fortuna, pensate che c'è Scossicci, e Scossicci è una risorsa enorme per Porto Recanati. Buonasera, ho apprezzato molto l'ultimo intervento perché lo considero un intervento, costruttivo, e se siamo qua siamo per costruire e non per altro. Cerco di andare velocemente alle risposte, partendo da un presupposto. I cassonetti non possiamo rimetterli, perlomeno per noi è una scelta, quella che è stata fatta, irrinunciabile, ma non perché si è svegliato qualcuno la mattina e ha detto togliamo i cassonetti, ma perché l'anno scorso, quando ci siamo poi visti con la riunione di quartiere di cui parlavamo prima, l'80% dei presenti alla riunione non sapevano che nel comune di Porto Recanati c'era la raccolta differenziata porta a porta. Cosa che nel comune di Porto Recanati, e non in un quartiere o in un altro quartiere, ma in tutto il comune di Porto Recanati c'è da più di 15 anni. Quindi abbiamo pensato che questo è stato un fallimento dal punto di vista della comunicazione, cioè, perlomeno dal punto di vista della comunicazione, se si pensa che la raccolta differenziata porta a porta è una raccolta che dà maggiori risultati dal punto di vista della differenziazione. Non siamo noi a dirlo, ma sono appunto coloro che si occupano di questa materia che dicono che il modo per fare il maggior numero di differenziata è la raccolta porta a porta. Ad oggi è quello. Cosa succederà nell'immediato futuro e dove stiamo cercando di spingere? Porto Recanati è entrato insieme ad altri quattro comuni dentro un processo sperimentale che sta conducendo insieme a Cosmari, perché Cosmari è un consorzio, noi siamo dentro il consorzio e quindi è ovvio, questo non è che significa che noi vogliamo, come dire, le cose belle siamo noi, le cose brutte è il consorzio, però certo è che il Comune si relaziona con un altro soggetto. Cosa si sta cercando di fare? Di arrivare alla tariffazione puntuale. La tariffazione puntuale è la possibilità di pagare per quello che si produce. Quindi chi differenzia tutto, sostanzialmente, paga esclusivamente un fisso, non dico zero, ma diciamo un minimo. Chi fa molto rifiuto indifferenziato paga di più. Questo processo prevederà l'introduzione di nuovi luoghi per la distribuzione dei sacchetti, lo abbiamo concordato, lo stiamo discutendo con Cosmari proprio in questi giorni, distributori automatici laddove non si potrà arrivare a fare una distribuzione come si facevano i supermercati, perché per esempio anche lì c'è il problema che molto spesso i sacchetti non venivano cippati, quindi venivano dati e l'utente che consegnava il sacchetto dimenticava di associare la tesserina al sacchetto. Cosmari vuole togliere questo sistema, arrivare ad un sistema che si baserà sulla tesserina del codice fiscale, quindi non ci sarà più il problema di ricordarsi dov'è la tesserina del Cosmari, perché ciascun componente del nucleo familiare potrà ritirare i sacchetti e conferire anche eventualmente in punti di raccolta utilizzando la tesserina del codice fiscale. Questo è quello a cui stiamo lavorando. Per cui, e questo perché? Perché il grandissimo problema che c'era è che effettivamente Scossicci era diventato la discarica del Paese, cioè, sapendo che c'erano i bidoni, anche dai paesi limitrofi, e poi questo lo abbiamo constatato sanzionando, sorvegliando coi vigili urbani, anche con delle fototrappole, abbiamo scoperto, e non era difficile, che imprese di lì che lavoravano in nero, soggetti che facevano magari sfalcio, potature e quant'altro, svuotavano tutto quello che avevano dentro i cassonetti di Scossicci. La situazione, per chi se la ricorda, Scossicci l'anno scorso, cioè un anno, un anno e mezzo fa, era assolutamente difficile, c'erano montagne di sacchetti fuori e assieme ai cassonetti. Cosmari ci dice che stiamo migliorando e questo è anche grazie a voi, a chi ci risiede, ma anche a chi viene ospite. Possiamo ragionare, e credo che sia una cosa sensata, su quel buco, diciamo così, che rimane fra la domenica a mezzogiorno, quando chiude l'isola ecologica, alle 11, e il lunedì mattina. Ma è un buco che noi potremo valutare di riuscire a coprire, trovando la disponibilità, perché poi è tutta una questione di economie, di riuscire a stare aperti magari fino alla domenica sera, ma è un problema che se lo mettiamo in questi termini lo possiamo risolvere. Se invece i cittadini ci vengono a dire io voglio il cassonetto davanti casa in modo tale che a qualsiasi ora posso buttare qualsiasi cosa, scordatevelo, perché sono politiche che... No, no, ma io non ve lo sto mettendo in bocca, sto dicendo qual è la politica di questa amministrazione, perché sui rifiuti ci vogliamo puntare, non solo, con Cosmari abbiamo anche chiesto come sopperire all'altro problema che è stato segnalato dalla signora Cunirici, non mi ricordo come si chiama, cioè quello dell'informazione. Il problema dell'informazione è un problema su cui le amministrazioni, diciamo così, nord europee, quelle che consideriamo come molto più civile, investono grosse fette di denaro, perché fare informazione è appunto una sensibilizzazione che consente di raggiungere poi i migliori risultati. Quello che vogliamo fare, stiamo cercando di mettere in piedi, sono campagne di sensibilizzazione, quindi bene l'idea di dare il fogliettino, oggi magari possiamo anche pensare di darlo utilizzando il telefonino, perché poi magari il foglietto è peso, è rifiuto, ma tutti abbiamo il telefonino, quindi possibilità anche di utilizzare le moderne tecnologie per fornire la copia in pdf, come si dice, di quel volantino che il comitato di quartiere distribuiva ai mercatini, farla arrivare a voi. Ma noi stavamo pensando anche altro, cioè campagne di sensibilizzazione che coinvolgano la scuola e che magari in estate, mentre siete in vacanza, vi raggiungono sotto l'ombrellone e vi spiegano come deve essere fatta la raccolta. Questo lo stiamo organizzando con un'associazione che si è resa disponibile per fare campagne di sensibilizzazione ed è qualcosa che Cosmari si è dichiarato disposto a sponsorizzare, diciamo così. Poi, per quanto riguarda le segnalazioni, io penso che va benissimo, noi le raccogliamo, ci siamo presi gli appunti, io parlo di viabilità, rotatori, eccetera, eccetera. Alla base di tutto bisogna fare un ragionamento. Le scelte di carattere urbanistico sono scelte che si vedono a distanza di anni, cioè il fatto che Scossicci sia un quartiere che sta morendo o che qualcuno può definire già morto è il risultato di scelte urbanistiche che hanno fatto sì che si è guardata all'espansione urbana esclusivamente attraverso la costruzione di volumi da destinare alla residenza turistica. Un diverso approccio magari avrebbe portato da qualche altra parte, ora bisogna correre ai rimedi. Qualcuno dice, io ho visto rinascere Scossicci, anche noi ci siamo accorti, e non è solo un dato visivo, ma sono dati anche che vediamo dalle statistiche, che Scossicci sta diventando un quartiere residenziale che tante persone stanno iniziando, ma questo lo vediamo sull'appetibilità della ricerca degli immobili perché Porto Recanati paradossalmente è carente di immobili per chi cerca case di residenza e quindi Scossicci sta diventando un quartiere abitato e molto anche d'inverno. E quindi è per questo che sulla necessità, per esempio, il quartiere, il comitato di quartiere ci aveva fatto una proposta di provare ad affiancare alla farmacia anche una sorta di piccolo bazar, mi ricordo c'era sul campo questa possibilità. È ovvio che sono cose che vanno in parte anche fuori dalle possibilità dell'amministrazione comunale perché è difficile fare questo. L'ultima cosa su cui vi voglio rendere dotti è invece un tema generale che riguarda, ha toccato l'ambito da qualcuno per quanto riguarda il discorso dei pulmini, ma in generale che riguarda il collegamento tra Scossicci e Porto Recanati. Cosa bolle in pentola? Forse ne avrete sentito parlare. Circa un paio di mesi fa, subito prima dell'estate, abbiamo presentato il Biciplan che è praticamente il progetto della mobilità sostenibile del Paese. Cosa prevede per Scossicci il Biciplan prevede la realizzazione di una pista ciclabile su tutta la litoranea con possibilità addirittura di avere una parte della litoranea a senso unico, ovviamente dove già abbiamo delle viabilità alternative, con realizzazione di un nastro di ciclabile che vada dal Nervi fino al fiume Musone. Già da subito stiamo lavorando sulla prima parte con una partnership con l'ente Opere Laiche, la fondazione Opere Laiche, che porterà alla realizzazione del primo pezzo, che è il pezzo che va dal fiume Musone, per intenderci, al ristorante Fabietto. Quindi questa è la prima parte. Ovviamente poi quel nastro dovrà raggiungere il capannone Nervi e su questo il progetto che abbiamo elaborato è un progetto già per certi versi utilizzabile come studio di fattibilità per captare fondi per la realizzazione delle piste ciclabili. Quindi questo è una cosa. Successivamente, non voglio diciamo così come si dice in gergo spoilerare, ma è in corso un progetto di riqualificazione della pista ciclabile Fausto Coppi con un progetto interessante. Ci sarà una conferenza stampa il 23, se non ricordo male, di settembre. Per quanto riguarda infine le segnalazioni sul senso unico, sulla viabilità, l'invito che fa l'amministrazione è bene, prendiamo appunti, interloquite col comitato, vediamo se è possibile la modifica di una rotatoria o di un senso unico, non è una cosa difficile, l'impegno dell'amministrazione è se è una cosa che si può fare ci impegniamo a farla. C'è la spesa, queste cose qui, è difficile utilizzarla. Ecco, anche la pista ciclabile che abbiamo, lei adesso ha toccato la pista ciclabile, non è manutenuta da una vita, quindi ci sta tutte erbacce, è veramente, cioè ci va con un bambino, è impraticabile, non è illuminata. Mettile una navetta un mese in più è sufficiente. Ecco, questi anziani infatti chiedono questa navetta in più perché ecco la pista ciclabile potrebbe essere per una... però un'altra cosa volevo chiedere, cioè noi ogni anno avete messo per carità, un periodo è stato, c'è stato l'autovelox lì nel quartiere del Sole, prima della rotatoria e avete fatto sbagliate multe, ma perché non lo mettete anche lì davanti allo chalet Davide che noi non riusciamo? Anni fa, adesso non ricordo, però un periodo mi ricordo c'è stato perché molti avevano preso la multa, c'è stato un autovelox lì alla prima della rotatoria del quartiere del Sole, giù in fondo. Sì, perché gli amici invece hanno preso la multa. Comunque, io adesso, al di là di questo, però, io dico non limitare, cercare di limitare la velocità nel rettilineo dove stanno tutti gli share, lì ogni anno praticamente succede un incidente. Domenica scorsa, per dire, c'erano due bambini che attraversavano, quello dietro praticamente sorpassava e passavano due bambini, cioè lì bisogna trovare il modo di limitare la velocità con dei dossi o con un autovelox, con un dissuasore, cioè ogni anno c'è successo un incidente. Allora, quella è sulla strada provinciale, abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme ai tecnici della provincia. Effettivamente i dossi non si possono fare, nel senso che c'è una disposizione ministeriale che vieta la realizzazione all'esito di alcuni incidenti mortali che ci sono stati di fare i dossi, soprattutto con le motociclette, sono pericolosi. Abbiamo pensato, due sono i problemi, lo sappiamo, la velocità e anche l'attrattiva rispetto al mare, perché molti si distraggono e alcuni degli incidenti che avvengono proprio sugli attraversamenti pedonali avvengono anche e soprattutto direi di giorno più che di notte, perché è un problema proprio di distrazione. L'idea che noi abbiamo avuto da questo punto di vista è che appunto il nastro di pista ciclabile, invece di passare lato monte, passi lato mare, cioè noi adesso abbiamo la pista ciclabile che passa sul lato monte. Questo ha due problemi, il primo che interseca tutte le viabilità in ingresso, quindi molto spesso accade che le biciclette si ritrovano con la macchina che esce dall'Ola, per intenderci, che guarda a nord e becca la bicicletta che viene verso sud. Spostare, e questo prevede il progetto del Biciplan, che voi dite è un progetto, sì, ma in questo comune non c'erano progetti, se non si fanno progetti non si ottengono finanziamenti. Il circuito è progetto, finanziamento e realizzazione. Il progetto prevede la realizzazione perlomeno fin dove riusciamo, cioè fino su dove è Fabietto per intenderci, lo spostamento della pista ciclabile lato mare, col doppio vantaggio che non abbiamo più intersezioni sulla pista ciclabile e che non abbiamo più il problema delle distrazioni, perché l'auto si sposta lato monte, poi il problema della velocità come si risolve? Appunto cercando di ridurre la lunghezza del rettilineo, cioè creando, ad esempio come pensavamo, una prima parte a senso unico, quindi la parte che si potrebbe realizzare sin da subito utilizzando appunto la variante di via Cristoforo Colombo è dal Sirio, per intenderci, sino all'Odigiotto, quella è una cosa che si potrebbe fare sin da subito e non è escluso che magari in via sperimentale la potremmo provare già dalla prossima stagione estiva. Questo perché abbiamo sia il progetto e stiamo appunto chiedendo fondi, noi abbiamo stanziato 50 mila euro iniziali per realizzare quello che è previsto nel progetto Biciplen. Il resto ovviamente poi dovremmo reperire i finanziamenti, quindi un'attenzione c'è. Buonasera a tutti, intanto ho seguito fino adesso, spero si senta, ho seguito fino adesso con interesse questa assemblea e sono, diciamo così, volevo fare fondamentalmente due, intanto ringraziare per questa disponibilità, ovviamente ho seguito anche l'assessore di Cessi tutto quello che ha detto fino a questo momento, volevo però far presente alcune cose, in particolare mi sembra che in tutto questo non sia stato minimamente, cioè considerato il fatto che noi siamo turisti, cioè non siamo disturbatori, persone maleducate, ma semplicemente siamo persone che stanno qui, io quest'anno ci sono stati a molti mesi, però non conosciamo le regole del paese e quindi se non ci troviamo ad essere informati, probabilmente non siamo in grado di fare le cose che l'assessore di Cessi diceva. In particolare, però, lo devo nel suo progetto, però credo che non tenga minimamente in considerazione il fatto, per esempio, che nel mio condominio, dove io ho una casa che è in via Pigafetta, prima è stata nominata, ci sono delle persone che affittano per una settimana, quindi una settimana, la persona che arriva sta lì una settimana, non ha minimamente il tempo di capire tutte le regole che ci sono dell'immondizia, lascia tutto davanti alla porta di casa, perché poi ci sono i cazzonetti vicino alla cabina di telefono ed è uno schifo, la settimana di per agosto abbiamo avuto un'immondizia pazzesca e poi uno schifo perché ovviamente non sapeva dove mettere queste cose, perché una persona che viene una settimana non ha il tempo di capire dove buttare l'immondizia, l'isola ecologica, la pastica, la cassa e tutto il resto. Quindi credo che sia allo stesso Scosticci e quindi al Comune di Porto dei Canati convenga fare una politica non soltanto per i residenti, ma anche per chi sarà in questo luogo anche soltanto temporaneamente, perché il ricordo che porterà via di Scosticci sarà il motivo per cui lo farà tornare e magari andrà a mangiare al ristorante che sta a Porto dei Canati, farà shopping a Porto dei Canati, porterà dei soldi alla città, perché c'era una signora prima che parlava, sembrava che noi eravamo i vandali che arrivavano e venivano a portare giù la piena come se fossimo stati un'allusione. Signora, noi siamo il vostro reddito, le faccio presente questo, perché noi che siamo lì sono stata lì quattro mesi quest'anno, quasi quattro mesi, perché appunto ero in telelavoro e quindi sono stata lì molti mesi e io ho fatto spesa lì, ho comprato lì, sono andata a ristoranti lì e quindi tutte le cose, oltre al fatto ovviamente che paghiamo l'Imo da 30 anni e paghiamo l'Atari e paghiamo tutto il resto, quindi siamo una risorsa che come tutte le altre località turistiche dovreste valorizzare e non cacciare via, trattare come vandali, trattare come persone che vengono lì a rompere le scatole, adesso ci dobbiamo sentire questi due mesi. Poi si è parlato del verde pubblico, si è parlato che Scosticci è verde, sì ma ci sono tantissime erbacce da tutte le parti e praticamente ci sono degli alberi che sono cresciuti sui marciapiedi, ma che immagine dà un posto come Scosticci quando non c'è l'erba tagliata, quando è tutto così incolto, così tutto abbandonato, dà l'impressione appunto di un posto che ci ricordiamo che esiste una volta ogni tanto e per il resto lo trattiamo così come località di serie B, ma io non credo che vi convenga trattarlo come località di serie B, quindi vi invito a prendere i provvedimenti anche in questo senso, perché arrivare e trovare tutta quell'erbaccia certo non è una bella immagine, poi la farmacia chiudeva alle 14, tutta una serie di servizi venuti meno, la strada, la signora Gattari che di presente è caduta, si è rotta un dente con marciapiede, quindi credo che andrebbe valorizzato, perché comunque siamo risorsa per il vostro comune e non siamo dei vandali che vengono lì a buttare l'immondizia per strada, perché ogni volta che lascio l'immondizia in maniera non corretta, mi sento male, lei pensa che facendo le multe ai turisti lei potrà crescita e sviluppo a porto dei canati? Lei pensa questo? Veramente sono stupita di questo, perché non è possibile pensare che fare le multe ai turisti sia un vantaggio per la città, a meno che non si voglia rimanere un anno e poi l'anno successivo tanto si sa che si va via, ne ero gestito il bilancio di quell'anno, perché io credo che invece sarebbe tutto il contrario, io non dico che ci dovreste coccolare, ma comunque almeno rispettare. Grazie. parlando della parola, il sindaco di qualche tempo fa diceva che almeno c'era un chilometro e mezzo che andava fatto, tutta una serie di cose, ma a me sembra che tutto questo non è stato fatto. Quanto poi alla comunicazione, non è possibile che la comunicazione possa avvenire soltanto attraverso un gruppo su Facebook e io per trovare le persone con cui parlare ho dovuto fare 50 telefonate, perché la signora Lucconi e altre persone lo sanno, io li ho bombardati, li ho chiamati su Facebook, ma vi pare normale? Questo sono riuscita io a farlo perché faccio la giornalista, ma un cittadino normale non ci riesce a fare tutto questo. Consideri che il mio numero ce l'ha a mezzo Porto Recanati, eh? Sì, però Porto Recanati che abita lì signora, io sono a Roma in questo momento, sono a Roma nel quartiere Eur, quindi non sono a Porto Recanati, quindi è un pensiero sempre fatto per i portori canatesi, non per chi invece viene lì, li porta risorse, ha una casa, paga animo da 30-40 anni, paga la Tari e le utilizza soltanto due mesi, come se non ci fossimo, ma vi chiederete, è il conto vero che poi alla fine i negozi aprono d'estate e chiudono d'inverno, ma se noi non ci siamo, ma quei negozi stanno chiusi oppure no? Cioè, io non capisco, non capisco questo. Adesso il Sindaco risponderà a queste cose, devo chiudere. Buonasera signora, abbiamo raccolto la sua testimonianza e volevo mettere due o tre puntini su alcune considerazioni che lei ha fatto, come quella per esempio dell'affittuario di una settimana che arriva e sta una settimana a Porto Recanati e poi va via e lascia di tutto. Ora, io credo che per avere una casa di una settimana, per un affitto di una settimana, questo signore si sia rivolto ad una agenzia per avere un contratto e quindi poter... e sta proprio all'agenzia, tant'è vero che i libretti che noi mandiamo e spediamo sono soprattutto quelli alle agenzie immobiliari che affittano gli appartamenti. Quindi è un fatto e una responsabilità di chi affitta, informare chi arriva di come funziona la raccolta porta a porta, non solo nel quartiere Scossicci ma in tutta Porto Recanati. Questo era un attimo per mettere un attimo in chiaro alcune cose. Poi voglio dire questo e forse la signora non è al corrente, ma noi abbiamo trovato una situazione a Scossicci dove ogni anno alle agenzie immobiliari venivano distribuiti, consegnati per i vari modi di consegna ai vari ospiti, eccetera, più di 4 mila sacchetti senza chip. Cioè la raccolta non veniva assolutamente controllata né differenziata né quant'altro. Questo è un aggravio su tutta la Tari che tutti noi paghiamo, perché la Tari la paghiamo tutti, sia chi è residente, chi non è residente, chi è ospiti, chi sta qui per due weekend all'anno. Tutto questo è un dato certo. Più di 4 mila sacchetti venivano consegnati direttamente ai cittadini del quartiere Scossicci del Sole o solo Scossicci. Quindi è un altro dei modi e è un altro di quei fattori dove siamo dovuti intervenire e è anche qui una delle conseguenze del fatto che abbiamo dovuto togliere, no dovuto, abbiamo voluto togliere i cassonetti. Ora qui di proposte ne sono uscite molto interessanti e sicuramente da recepire. E questo è quello che vorremmo mettere in campo. Il confronto è fatto proprio per questo, per migliorare le cose. È vero che, come diceva la signora con la camicia nera che va via la domenica pomeriggio e non sa dove lasciare la plastica, ma forse fino alle 11 dove lasciarla la sa. Lo sa, però c'è pure chi va via magari lunedì mattina e quindi non sa dove portare la plastica. Una delle soluzioni, certo, ma lo faccio anch'io signora, non lo fa. Lo faccio anch'io, signora, lo faccio anch'io. L'isola ecologica c'è per tutti e c'è un numero di telefono. Se uno non ha la macchina basta fare lo 0717599342 e gliela vengono a prendere a casa al costo di 5 euro. Io ho dato pure il numero, così se vuole se lo può anche appuntare. Ma a prescindere da questo, una soluzione si può trovare e una delle soluzioni potrebbe essere quello magari di prolungare l'ultimo giorno, cioè la domenica, come diceva la signora con la camicia nera, l'orario di apertura. Quello è difficile perché il camion che passa per la raccolta differenziata non passa soltanto a Porto dei Canati o soltanto a Scorsicci. Cioè è già il giallo che è l'unico giorno, il lunedì, che viene a raccogliere l'indifferenziato, passa per tutta la città e sono sette quartieri. Molto più è impossibile perché tutta anche l'organizzazione Cosmari è in funzione di quello. Quindi portare la plastica magari allungando l'orario di apertura dell'isola ecologica alla domenica sera, tanto questa è forse l'unica soluzione. Però ribadisco, non è vero che non siamo attenzionati, come dice la signora, che non so dove abita, probabilmente dove abita lei ha una raccolta differenziata al 100%, a Roma? Allora ritiro quello che ho detto. No, no, adesso era una battuta però lo ritiro. Credo che siano 30 anni che sta qui questa signora detto al telefono. Io vi dico che la raccolta differenziata viene misurata in punti percentuali per trimestri e per anni. Noi quest'anno lo abbiamo aumentata di parecchi punti, aumentando già quello che era stato aumentato lo scorso anno. Quindi vuole dire che da parte di tutti c'è già una buona attenzione a quello che è stata un'iniziativa che abbiamo intrapreso già dallo scorso anno. Quindi vuole dire che anche voi ci state attenti, anche voi come altri cittadini che vengono al mare o che risiedono, contribuite a quello che è poi un risultato ottimo. Si può tutto aggiustare, il confronto è fatto per questo perché tante volte le idee vengono confrontandosi e parlandosi. Il fattore navetta è un fattore importante, non dipende solo dal Comune, nel senso che il Comune fa un contratto con una compagnia, con la Cotram, e bisogna vedere anche la disponibilità che c'è nell'azienda. Quando vai a contrattare la cosa magari ti trovi che in quel periodo mancano gli operai perché pensionamento, ferie, eccetera, è un'azienda, quindi devi trovare un compromesso per cercare di gestire la cosa. Negli anni Covid è stata una cosa eccezionale perché praticamente eravamo tutti qui, nessuno si poteva muovere, quindi ferie poche, gli autistici c'erano tutti e sono riusciti a fare, noi non c'eravamo, quindi non prendo i meriti di questo. È stato fatto un servizio molto capillari con degli orari molto anche serrati. Purtroppo poi, negli anni successivi, quindi l'anno scorso l'abbiamo mantenuto, ma quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti. Ma è una contrattazione, signore. Però magari nelle nostre intenzioni c'è la volontà di mettere un bici bus, quindi in 6, 7, 8, 10 si può salire sopra un bus fatto a bicicletta e a vari orari arrivare fino a Porto dei Canati in quella maniera lì. Sembra una cavolata, lo so, però siccome sembra una cavolata, ma è una cosa che al nord Italia, nonostante, l'ultima cosa, adesso questa era una battuta, ma prendetela come battuta anche per stemperare, però volevo dire una cosa, se ricordate, spero che eravate presenti quando sono passati, perché l'abbiamo fatto per parecchi giorni, abbiamo mandato la protezione civile con il megafono a ricordare la mattina o la sera qual era il sacchetto che veniva raccolto il giorno dopo. L'abbiamo fatto per circa tutta la stagione dello scorso anno. Magari eravate al mare alla mattina, magari eravate al centro di Porto dei Canati alla sera, però è stata una di quelle cose che per la comunicazione abbiamo messo in campo. Altre sono un po' più difficili, per esempio il supermercato lo scorso anno non ha voluto distribuire i sacchetti e quindi capite che non è così semplice interloquire sempre con chi poi vuole fare il servizio e l'abbiamo fatto nella farmacia. Finisco qui con la farmacia. La farmacia ha degli orari perché purtroppo non c'è il personale. Noi abbiamo fatto addirittura un concorso prima della stagione e non abbiamo trovato come tutte le farmacie ormai a livello tessuto nazionale, come succede anche per i medici di base e quant'altro, personale per metterlo alla farmacia. Quindi ci siamo adattati e aggiustati con il personale che avevamo facendo dei turni. Siamo consapevolissimi. L'ultima volta che è stato fatto il marciapiede, alcuni tratti dei marciapiedi, è stato fatto prima delle votazioni del 2021, quindi è stato fatto poco tempo fa, due anni fa. È vero che la stagione di quest'anno, da maggio fino alla fine di lui, è stata eccezionale a livello di piogge e quant'altro e quindi ha ammalorato ancora di più quello che è… No, diciamo che io ricordo che è stata fatta una bella striscia di marciapiede, lasciando poi un paio di curve dove ci sono radici e quant'altro, non asfaltate, ma è stato fatto durante le elezioni. Noi invece credo che abbiamo già… Sì, dica. Via Nespucci non c'è un marciapiede. Perfetto, guardi, gliel'ha detto prima l'assessore, è una zona che va attenzionata, che deve essere attenzionata. Il verde, mi dispiace, non so chi ha parlato del verde, forse la signora al telefono. Io ho frequentato per quattro serate di seguito Scossicci dove sono stati fatti dei concerti da dei ragazzi di Porto dei Canati e era una piazza, forse la più grande piazza che c'è a Scossicci di fronte alla chiesa. Io non l'ho vista questa erba così alta e ho visto una cura di quel parco. Oltretutto sono state tutte riverniciate le panchine, sono state messe a posto cinque, sei forse lampioni che non funzionavano da una vita. Non è vero che non c'è attenzione. Noi passiamo, l'attenzione c'è, segnaliamo agli organi competenti delle varie problematiche. Via Scarfiotti è stata illuminata. Abbiamo degli appunti su tutto quello che dobbiamo fare. La stessa ciclavile mancava un punto dove non c'era luce, abbiamo messo un faro sotto, se avete fatto caso, perché intervenire in certi periodi non è così semplice. Poi con la stagione che c'è stata è stato ancora più difficile. Io ho mamma che mi chiama. Lo so, però ci dia fiducia, visto che sono anni e anni e noi siamo arrivati invece da poco e stiamo già intervenendo. Ascolti, io non gliele faccio le promesse, non gliele faccio, come vede ho levato i cassonetti e non gliele rimetto, quindi non glielo prometto. No, sto dicendo, noi siamo ben consci della potenzialità che diceva la signora di quella zona, tant'è vero che la scogliera viene fatta a scossicci, non viene fatta davanti al Musone o a Porto Reganati che già sta... No, con la nuova scogliera sud, Porto Reganati oggi è a rischio erosione, cioè il centro di Porto Reganati. Però parte da scossicci, perché? Perché c'è un'attenzione a quella zona, è una zona che va sicuramente rivalutata, rigenerata e messa in maniera... Diciamo, dargli una dignità che deve avere, anche se è un ammasso, perché tutto quello che è stato costruito è stato costruito con dei criteri un pochino... Però questo abbiamo, ma è la stessa cosa che abbiamo in centro, perché in centro siamo affogati da tutto quello che è stato costruito, abbiamo difficoltà a trovare parcheggi, abbiamo tante difficoltà, ma queste noi stiamo qui apposta per cercare di risolverle e questo è l'impegno che ci prendiamo, questo è l'impegno che ci prendiamo, qui se volete lo sottoscrivo, ci lavoriamo, ci stiamo già lavorando e cercheremo di rendere quella zona ancora più vivibile, ancora più appetibile di quello che è oggi. Bene, grazie. Se posso... Grazie. Se posso fare un altro... Posso avere voce? Ci saranno nuove costruzioni verso l'Ola? Come scusi? Non ho capito. No. All'Ola? Verso l'Ola! Gira voce che un imprenditore abbia acquistato tutta quella parte. Gira questa voce. Ex Malibu e... Allora, da quello che mi risulta, il Malibu è chiuso... Ascolti, le rispondo solo in un modo, questa amministrazione da quando ci siamo noi non ha aggiunto un metro cubo di quello che si poteva fare. A scossicci le lottizzazioni che sono rimaste da completare ma adottate addirittura nel 2009 e poi dopo approvate successivamente, sono a destra e a sinistra dello stradone. Quindi ci sono due lotti, appena inizia, sempre dietro a Fabietto, io ho fatto pubblicità stasera perché l'ho citato parecchio, però dietro a Fabietto e sull'altro lato lì ci sono 5 ettari a destra e 5 ettari a sinistra dove ci sono due lottizzazioni, di cui una è silente, cioè nessuno ha chiesto di poter costruire, l'altra invece sta portando avanti il progetto per la realizzazione di un hotel e di un villaggio turistico. Per il resto non ci sono altre aree che vengono edificate, né abbiamo fatto varianti urbanistiche in tal senso perché chi ci conosce e chi mi conosce sa che noi siamo stati quasi i paladini dello stop al cemento e quindi questa è una linea che vorremmo continuare a mantenere. Sicuramente signor Andorra, io l'ho fatto vedere io. La famosa Darsena, questa era la famosa, ma ce n'era stato ancora uno prima dove c'è il Colosseo diciamo, lì ce n'era un altro di Porto, cioè qui il Porto va... Devo solamente dire una cosa, io devo andare perché ho un impegno all'arena, quindi non posso mancare. Noi faremo a breve una riunione, magari ne pubbliceremo su Facebook di quartiere sulle bacheche e se poi ci sono magari cose da attenzionare per la richiesta da fare all'ente locale, magari scrivete due righe su una mail, lì sulle bacheche c'è ancora l'indirizzo e mail del quartiere e poi ne prenderemo atto e lo inoltreremo a loro, diciamo oltre le cose che sono state dette questa sera. Noi abbiamo fatto anche i proposti su un comitato, non lo so se il comitato riferisce a sindaco e a... Sì, sì, arrivano, arrivano. Però probabilmente la cabina telefonica non è di competenza dell'amministrazione... No, no, era un'idea molto carina, ci siamo anche informati ma non è possibile perché non è di competenza comunale, cioè, esatto, quello sicuramente, noi lassù abbiamo, cioè noi diciamo il comune di Porto Reganati è proprietario soltanto della farmacia, cioè del locale adibito a farmacia, nei vari investimenti che negli anni sono stati fatti nessuno ha guardato un po' più avanti dicendo ok la lottizzazione ma mi lasci un locale, non è mai stato fatto, quindi il comune di Porto Reganati non ha proprietà e oltretutto la casetta che ormai è chiusa da non so quanti anni è della Cosmari, non è neanche del comune e sta su territorio, pensi, Loreto, è Santa Casa, come il Play, come altre zone, come tante case vostre, tante case dei scossicci sono per metà proprio l'appartamento diviso, metà è Loreto e metà è Porto Reganati, esatto, quindi insomma di problematiche so tante, quella che dice lei è un'iniziativa per una biblioteca, si potrebbe fare anche… l'abbiamo fatto in più piazze con delle casette, non gli lascio immaginare cosa sono diventate le casette in mano a sti ragazzini che di notte vanno in giro, ma questo non vuole dire perché noi le rimettiamo su ogni volta e si può fare, è una cosa che sicuramente si può fare. Se vi volete segnare e se magari se lo vuole segnare un numero che è Whatsapp Porto Reganati dove vengono segnalate tutti gli eventi, le allerta meteo… Allora guardi, questo arriva diretta, basta, adesso io gli do il numero poi magari lo distribuisce, basta scrivere iscrivimi e automaticamente viene inserito in questa rubrica e arrivano tutte le segnalazioni, allerta meteo, il T-alert dell'altro giorno della regione e quant'altro. Allora il numero è 333 470 1354, ripeto 333 470 1354, basta mandare un messaggio su Whatsapp iscrivimi e automaticamente si viene iscritta, l'abbiamo messo da non tantissimo, però poi con la stagione comincieremo a pubblicare anche magari gli orari delle corriere e tutto quello che sta avvenendo a Porto Reganati. Ci abbiamo già tantissimi follower, adesso mettiamo eventi, abbiamo iniziato mettendo eventi, concerti e tutto quello che succede. Non è un'estate, non è un'estate? No, no, l'abbiamo messo quest'estate, quindi abbiamo iniziato così, però è un servizio che uno ce l'ha sempre a portata di mano per qualsiasi cosa. è dal 22 luglio, io mi sono iscritta al 22 luglio. Vi do un altro numero, vi do un altro numero che questo invece è importante, così quello dell'URP della Cosmari. L'URP no, è il numero nostro. Il numero nostro. Ce l'hai? Invece per quanto riguarda la farmacia, non c'è possibilità a un privato di aprirla? Signora, questo? Contingentate. No, ce ne sono già due in comune all'interno di Porto Reganati, private e una, che poi lassù cursale e lassù comunale. quelle sono contingentate, quindi per ogni tot numero di abitanti possono essere aperte. Sì, sono gestite a livello regionale. Quello è un'iniziativa privata, signora, lei prima mi diceva dei negozi, eccetera. Sono iniziative private, non è che... Sì, però se pian piano riqualifichiamo la zona, pian piano i privati prendono iniziativa. Posso dire un'altra cosa? Do un altro numero, ormai do i numeri. Questo è l'URP, l'ufficio URP, dove si possono mandare le segnalazioni, che è 071 75 99 722. Anche per il ritiro degli sfalci, degli ingombranti, di qualsiasi cosa, si fa riferimento a questo numero, è quello che prima ho dato a memoria. Sì, basta dire la via dove... Ecco, volevo dire un'altra cosa, posso? Ecco, allora, anche in risposta a quella signora che ci ha parlato al telefono, no? Non era quello il messaggio che si voleva dare, assolutamente, era particolarmente di parte, diciamo così. Beh, c'è avuto un bel applauso, però. Però, sì, però io dico una cosa, le agenzie immobiliari, pur di far quattrini, non sono motivate a far fare alle persone la differenziata. Invece, io coinvolgerei gli amministratori di condominio, in maniera non obbligatoria, ma insomma, facciamo formazione a loro, perché lì la signora, mi è parso di capire che appunto sta in un condominio, allora, l'amministratore di condominio deve stilare delle regole ben precise, che poi il proprietario deve... Beh, il problema è che vengono fatti affitti abusivi. E allora, c'è arrivata, adesso dovete fare l'applauso. Tutti i problemi che derivano dalle male gestioni o, diciamo, da quello che è scossicci, è proprio qui. Il problema è, l'ha detto, finalmente qualcuno l'ha detto, qui andrebbe un bel applauso. Perché i garage che sono stati trasformati in appartamenti, perché gli affitti di una settimana che non passano dagli immobiliari, ma passano dai proprietari o dalle agenzie che hanno quegli appartamenti, e da tutto questo è il grosso problema di scossicci. Come si interviene? Ci stiamo lavorando. Possiamo fare controlli, perché i nostri controlli vanno, per quanto riguarda le agenzie immobiliari e i vari affitti, eccetera, solo sulla tassa di soggiorno. Quindi, quando abbiamo dei dati, interveniamo in quella misura. Non lo facciamo naturalmente noi, ma gli enti per i posti, quindi guarda di finanza e quant'altro. Però il vero problema di scossicci è questo. Voi siete un gruppo, più che lodevole, di persone che hanno una casa qui, che vengono a Porto dei Canati per piacere di venire a Porto dei Canati. Questo ci fa no piacere, immensamente piacere. E cercheremo e cerchiamo di dare il massimo di noi stessi a livello amministrativo perché scossicci diventi un gioiello, compreso il biciplano di cui parlava prima l'assessore Riccetti. E' un negozio almeno? Signora, i negozi non dipendono dal comune, sono attività private e è il privato che deve investire a scossicci. Non è possibile che il comune vada a trovare, cioè non c'è, non esiste. Ma è stato sempre considerato, lo posso dire, un quartiere dormitorio, perché praticamente chi ha casa lì viene per due volte alla settimana, qualche volta e nei periodi invernali mai. Ora si sta però popolando per via anche di tanti fallimenti e molte persone che intervengono nel fallimento stanno comprando casa come residenziale, non più come estiva. Quindi è in continua trasformazione. Noi siamo attenti a questo, io questo lo posso garantire, penso che l'abbiamo anche dimostrato, con tante piccole cose su cui siamo intervenuti, compreso interverremo anche sui marciapiedi, interverremo anche negli asfalti. Ci vuole tempo perché quella zona è abbandonata a se stessa da troppi anni. Quindi rimettere in moto un meccanismo non è mai così semplice, ci vogliono investimenti importanti. Un'altra proposta, i sacchetti per i rifiuti potrebbero essere distribuiti anche dall'isola ecologica? Poi via Amunzen è Loreto a metà con Porto Recanati oppure tutta Porto Recanati? Amunzen è quella dell'isola ecologica e non c'è il marciapiede? La parte ciclabile mi sembra che sia... No, pure la parte... Allora, perché dico questo? La parte dietro al play c'è una parte che è Loreto. Perché si fa fatica anche a portarla alla roba all'isola ecologica, vi dico perché? Perché il marciapiede sta in via Marco Polo e finisce verso l'isola ciclabile. L'altro marciapiede di via da Verrazzano finisce verso la staccionata. Proprio nel retro che dà sui campi della Santa Casa e la Basilica di Loreto, marciapiede finisce lì, è tutto sconquassato, tutti sassi. Quindi magari quel tratto di marciapiede sarebbe fatto. E poi l'erba del parco va benissimo, però anche quella dietro all'isola ecologica va tagliata. Perché non è una bella immagine per chi poi va lì. Signora, guardi, io non lo voglio, lei ha vissuto il nostro periodo per maggio, giugno, luglio, agosto. Noi siamo ancora oggi, oggi, che siamo a settembre, a fare sfalci e a tagliare l'erba nel mese di settembre, che non è mai successo. Lo scorso anno, l'ultimo taglio che è stato fatto in tutta la città, tutto Porto dei Canati, mi sembra che era la prima settimana di luglio. Poi a luglio, dopo luglio, io penso che ce ne so persone che se ne intendono, io so più marinaro, ma poco di campagna, l'erba non cresce più. Ma tutta l'acqua che è stata riversata meteorologicamente fino all'ultima bomba, che era il 31 di luglio, ha fatto sì a acqua e sole, che ancora oggi noi stiamo correndo dietro al verde. Gli operai sono sei, i macchinari sono quelli, molte cose le abbiamo date in appalto, ma è difficile arrivare. Ma non è solo Porto dei Canati, vi assicuro che la stessa situazione è per tutto quanto le marche, tutte, fino all'Emilia Romagna, dove è iniziata l'emergenza. Un'altra domanda, poi mi taccio, l'ultima è però, perché lei quando prende la prima domanda, dopo l'ultima non si sa mai quant'è. Allora, ne avevo parlato anche con il comitato di quartiere. Uscendo dal quartiere Scossicci, dal Giannino verso il centro, superata la rotonda che sta più o meno davanti al Giannino, che sta davanti a quel locale Ex Fatatis, adesso Pesce Azzurro, superata quella rotonda, andando verso il centro, non c'è più possibilità, da nord verso sud, non c'è più la possibilità di rientrare nel rione. Via Marco Polo è a senso unico soltanto in uscita, secondo me sarebbe più utile in rientrata. Comunque Marco Polo è una via strettissima, quale che sia il senso di via, o in uscita o in entrata, d'estate un'auto di dimensioni normali non ce la fa passare, allora occorrerebbe mettere un bello e chiaro divieto di sosta, perché lì non devono starci autoparcheggiate. Via Marco Polo è quella che in senso contrario va dall'ex play verso la ciclabile, verso l'oretto, mi spiego? È senso unico solo in uscita. Secondo me sarebbe più utile in rientrata, non dico in entrata, in rientrata, perché se uno si dimentica gli occhiali oppure va a prendere il gelato, l'unico esercizio che è rimasto è la gelateria lì, se uno va a prendere il gelato dove c'è quella Zanzibar e poi vuole rientrare nel rione in piena estate con tutto quel traffico, il gelato se lo perde nella macchina per quando torna a casa, perché non c'è modo di rientrare nel rione, deve riattraversare la provinciale affollatissima a luglio e agosto. ma a parte il gelato e la battuta, secondo me sarebbe più utile in rientrata. Ok, adesso lo valutiamo con i vigili, con chi di competenza. Va bene, volevo dire che avete diversi mesi per lavorare, quindi buon lavoro. Se non ce la facciamo veniamo a Morrovalle, così a Morrovalle. Fateci una sorpresa quando torniamo il prossimo anno. No, no, adesso vengo a controllare la Morrovalle. Se viene a Morrovalle. Il primo ciuffo d'erba che trovo gli mando la foto. Se viene a Morrovalle avrai una bella... Ma io ce la vorrei anche a Morrovalle. No, a Morrovalle. Morrovalle è tenuta bene. Ho dei grandi amici a Morrovalle, è una cittadina carinissima. E abbiamo una bella amministrazione a Morrovalle. E un po' di sacchetti per i grandi distruttori per i sacchetti. Scusate, così finiamo i cestini che mi sono dimenticato prima. Allora, i cestini, sono previsti i cestini su tutta la litoranea. Dovevano arrivare subito, perché abbiamo a livello d'arredo urbano cambiato i cestini che erano sul corso e sul lungomare. E quei cestini, naturalmente quelli fatti bene, insomma, riutilizzabili, avremmo dovuto mandarli e portarli su a Scossicci. E anche giù tutta la camminata della Pineta. Siamo arrivati fino alla Pineta, perché poi ha cominciato questo tempo. E quindi i nostri operai sono spariti. Praticamente non è che di solito uno li utilizza quando c'è un po' di tempo. Però è in previsione, ce l'abbiamo già, come anche qualche panchina, se c'è la possibilità e lo spazio. Come abbiamo fatto, se siete... Sui cani c'è un'altra idea? Però non lo posso dire. Posso concludere una cosa al volo. Io volevo ringraziare della disponibilità, eccetera. Però volevo fare una piccola conclusione dicendo allora voi ci assicurate che penserete a una soluzione eventuale per questo problema del conferimento rifiuti nel weekend, perché è quello che a noi non residenti più preme. Perché vi assicuro che se siamo qui siamo tutte persone che ci tengono particolarmente a fare le cose come si devono fare. Perché se no... E' quello che ha dato un po' fastidio. Nessuno ha detto a lei che è incivile. No, abbiamo detto che in quel quartiere abbiamo fatto quella mossa e ha tolto i cassonetti, eccetera, perché troppi incivili e ha pure elencato quello e non ha finito perché io ci posso mettere i divani, ci possono mettere... No, no, ne siamo certi che lo vediamo anche noi. Una barca, un frigorifero di quelli a più spazi. No, no, ma lo vediamo anche noi, quindi lo sappiamo che c'è gente. Forni a micro, lavatrici, televisori. Io nella stessa foto che ho in quei cassonetti di fianco alla chiesa, fatta nel 2019, per altri motivi l'ho fatta, nella stessa cassonetto c'è il divano, un tavolo, una lavatrice sopra lì, una televisione, un frigorifero e un divano letto con tanto di materasso sporco. Ma ci credo... Lo sappiamo perché li vediamo anche noi. Quindi io questo è un impegno che ci credo... Spera il senso degli incivili. Ma mica è detto che l'avete fatto voi o l'ha fatto chi è residente. Magari chi arriva, arrivava e ce lo buttava. Ci teniamo a fare il meglio. il meglio possibile. Però se... Adesso le due noci da la mandirà... Non ci penso per niente. Eh, devo andare al mare. Se vado al mare, per me, se le novi, non ci posso stare giù al mare. Eh, devo andare al mare. Capito, però l'immondizia la facciamo tutti, sia se andiamo al mare o non andiamo al mare. Posso finire... Eh, scusate. L'ultima cosa mi permettevo di... volevo fare però una pizzicatina finale perché... No, volevo solo. Mi permetto di dire l'ultima cosa, se no andiamo via tutti in armonia. Adesso siamo tutti. Però, ecco, siccome Scossicci, veramente, avete ragione, voi pochi anni che ci siete, quindi è un quartiere che è stato abbandonato da anni. Basta che fate un giro, veramente. Dietro all'hotel Giannino, via Vespucci, i marciapiedi, ci sono delle buche, ma trentennali. Quindi è veramente indecoroso. Però tutti abbiamo notato che la prima cosa che è stata fatta sono stati dieci parcheggi a pagamento davanti all'hotel Giannino. Adesso mi scusi, sindaco, ma questa proprio... Da poi glielo spiego. Da poi me la spiego. E chiudo. Quindi noi ci mettiamo tutta la buona volontà. Siamo persone che stanno qui veramente da 50 anni. Io ero bambina quando mamma comprò la casa qui. Quindi ci teniamo e abbiamo un amore per questo posto. Però gli ultimi anni sono stati un pochino pesanti perché abbiamo visto delle intenzioni punitive da parte vostra. E non ci è piaciuto, te vi dico la verità. L'anno scorso ho avuto anche delle risposte un po' piccate sul gruppo Facebook. Semplicemente perché chiediamo di poter... Noi non rispondiamo su Facebook. No, no, io mi sono pizzicata, non mi ricordo. Adesso cercavo il post con un assessore. Per concludere. E chiudo dicendo che la signora che prima è andata via polemicamente dicendo che Escosicci non è un residence sinceramente mi ha un po' scocciato. Perché se è un amministratore comunale ci vuole un po' di buona creanza. Ecco, io non lo so, è me per me. Non è un amministratore. Allora, le volevo dire che prima dicevate come mai non ci sono negozi, non ci sono attività, non nessuno investe, eccetera. Proprio il problema dello spazio per chi ha investito a Scossicci come il ristorante Giannino, come l'altro ristorante, come la Odigiotto e altre attività che stanno... Quello che lamentavano è, dicevano, e poi oltretutto anche per un problema di sicurezza, che molti si fermavano sulla litorania, scendevano. Chi voleva andare al ristorante non trovava posto. Quindi la scelta è, ok, mettiamo un parcheggio a pagamento. Chi va a spendere X euro per mangiare metterà anche qualche centesimo per parcheggiare. È una questione più che altro di rispetto verso attività economiche che sono aperte oltretutto tutto l'anno, non solo a livello stagionale come sono i bar lungo la litorania. Però tutto da cosa nasce? È sempre dal fatto che chi ha investito e chi ha costruito non ha previsto che ci voleva pure lo spazio per le macchine. Quindi è talmente tanto tutto compresso che chi arriva e vuole andare a mangiare da Giannino, da Fabietto, che poi si chiama Fabio, anche lo chef di Giannino, non ha il posto per la macchina. Allora abbiamo fatto una fila, che so, pochi posti poi oltretutto, a pagamento, in modo che chi vuole andare a mangiare lì magari ha più possibilità di trovare un posto invece di girare da tutte le parti. perché, guarda, c'è un giorno di grecia.